Mercoledì ore 18.45, Monaco di Baviera, esordio della Roma in Champions League, un esordio fortemente cercato e voluto da una formazione come quella giallorossa che arriva per la seconda volta consecutiva alla fase a gironi del campionato europeo per le squadre di club. In attesa che la Champions League femminile venga riformata, l'anno prossimo toccherà a quella maschile e che dall'anno prossimo ci siano tre squadre italiane iscritte alla qualificazione, la Roma per il momento è l'unica a difendere i colori del nostro paese. Si tratta di un risultato già di per se stesso straordinario e la Roma è inserita in un girone indubbiamente non facile, non facile ma nemmeno impossibile e molto potrebbe arrivare proprio dalla prima partita che è indubbiamente subito la più difficile, in trasferta contro la testa di serie. La Roma per arrivare a questa sfida si è dovuta qualificare attraverso un turno preliminare, il Bayern come quarta società del ranking UEFA per numero di punti non ha avuto questa necessità. Il Bayern è vero, tra tutte le teste di serie probabilmente era la meno qualificata e il Bayern a livello europeo e di Champions League non ha mai ottenuto dei risultati straordinari. Basti pensare che se la Roma nella sua seconda stagione europea arriva alla seconda fase a gironi, il Bayern dopo 11 stagioni europee è comunque alla sua terza fase a gironi. Ma questo dipende anche dalla riforma della competizione che negli ultimi anni è cambiata molto. In realtà il Bayern in passato è arrivata alla semifinale ben due volte, nel 2019 contro il Barcellona, nel 2021 contro il Chelsea, perdendo in entrambi i casi contro squadre che poi avrebbero perso in finale il trofeo. È una squadra forte, solida, attenta ai conti che da un anno è affidato alle cure di un allenatore estremamente pragmatico sotto certi aspetti molto simile ad Alessandro Spugna, non solo per il nome di battesimo, anche lui si chiama Alex. Alex Strauss, 48 anni, norvegese, è un tecnico che ha investito tutta la sua vita nel calcio femminile. Arriva dalla scuola norvegese, una scuola nordica figlia di quella che è stata l'esperienza non soltanto norvegese ma anche svedese e danese ed è un tecnico che ha partato al Bayern in una certa concretezza arrivando subito al risultato importante. In un campionato tedesco la Bundesliga femminile estremamente forte, solido, concreto, con squadre di grande tradizione come il Francoforte che sarà in Champions League dopo aver eliminato la Juventus e il Wolfsburg che di Champions League ne ha fatte tante ad alti livelli vincendone anche qualcuna, il Bayern nello scorso anno ha vinto il suo quinto titolo nazionale dopo diversi anni di digiuno. Il Bayern tra le squadre tedesche forse ad alto livello è quella che ha vinto di meno e che a livello europeo non ha mai vinto nulla. Proprio per questo la Roma può davvero pensare, se non a Monaco di Baviera, sicuramente al Tre Fontane, a fare la differenza, ad alzare ulteriormente l'asticella. Ovviamente è una squadra forte, tecnicamente importante, con giocatrice di grande esperienza internazionale su tutte, la nazionale tedesca Lina Magul, ma soprattutto là davanti Pernilla Harder, una giocatrice con una esperienza in zona di gol incredibile con numeri straordinari, ma la Roma già lo scorso anno contro il Wolfsburg ha dimostrato di potersela giocare alla pari anche con squadre molto più attrezzate e titolate. Sarà un match interessante, 18.45 di mercoledì, l'esordio della Roma in Champions League, una dinamica diversa nella Champions League femminile rispetto a quella maschile, quella maschile si concluderà prima del Natale, 4 turni di gioco prima della fine dell'anno, 2 invece nel corso del mese di gennaio per la Roma che comincerà il suo percorso contro il Bayern e finirà il suo percorso proprio contro il Bayern in quella che sarà l'ultima partita della fase a Gironi alla fine di gennaio in casa contro le tedesche. Grazie per la visione!